Mimmo di Benedetto è stato nominato commissario liquidatore della comunità montana Peligna. Prende il posto di Antonio Carrara che da alcuni mesi è alla guida del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. La nomina di Benedetto è arrivata prima di Natale. Ambiva all'incarico anche il sindaco di Pratola Peligna Antonio Lecrescentis ma alla fine a spuntarla è stato il consigliere comunale di Sulmona Democratica. Si tratta di un incarico gratuito che non prevede alcune indennità, precisa subito a scalzo di equivoci Mimmo di Benedetto. Il suo compito sarà quello di portare l'ente alla liquidazione. La comunità montana Peligna è stata dichiarata soppressa con decreto della giunta regionale nel novembre 2013. Il commissario liquidatore è chiamato ad esercitare i poteri degli organi decaduti fino a presentare alla regione il progetto per la liquidazione, dopodiché si procederà alla definitiva estinzione. C'è stato chiesto, affermato di Benedetto, di accelerare questo iter in previsione della Costituzione dell'Unione dei Comuni. La comunità montana Peligna conta cinque dipendenti, il trasferimento del personale e tre i punti che rientrano in questa fase di liquidazione, insieme alla certificazione del bilancio e alla gestione del patrimonio.